Primo giorno di lavoro in città per il nuovo questore di Lecco, Alfredo D'Agostino, che ha ricevuto il testimone da Filippo Guglielmino. 55 anni, nato a Macerata, laureato in giurisprudenza, D'Agostino ha iniziato il suo lavoro nel 1989 a Bologna. Nominato primo dirigente della Polizia di Stato nel 2007, dopo numerosi incarichi in Calabria, un'esperienza alla questura di Foggia, dove ha svolto anche la funzione di vicario del questore. Ha ottenuto la promozione alla dirigenza superiore ed è stato segnato alla direzione del compartimento della Polizia Ferroviaria di Verone, del Trentino, Alto Adige, ultimo incarico prima di approdare a Lecco. Conosceva già la città? La conoscevo da turista in modo assolutamente approssimativo. Da oggi sono cittadino di Lecco e quindi la vivrò certamente come cittadino e come questore. Nel suo passato, la recente esperienza al compartimento di Polizia Ferroviaria di Verone, del Trentino, Alto Adige, ma anche in Calabria e in Puglia, realtà diverse da quelle lecchese? Indubbiamente ogni spaccato del territorio nazionale presenta delle caratteristiche, delle peculiarità. Da oggi sono proiettato a conoscere quelle che caratterizzano la realtà appunto di Lecco, che so essere una realtà nella quale la qualità della vita è estremamente alta e alla quale quindi bisogna corrispondere con target di garanzie di sicurezza assolutamente alti. Ci sono dei punti cardine, qualcosa su cui sicuramente lavorerà? Io eredito certamente una situazione ottimale per il lavoro svolto dal mio predecessore. Una delle principali mission che la Polizia di Stato oggi si riconosce è quella del controllo del territorio e quella della prossimità al cittadino, non tralasciando altri aspetti del nostro mondo assolutamente variegato, l'attività investigativa, l'attività di prevenzione, che vanno analogamente curati. È un panorama che va osservato a 360 gradi, l'impegno sarà su tutti e 360 gradi.